Questa è una copia perché quello originale è stato rubato nel 1994 e non l'hanno più ritrovato. Adesso vedete la sera qui viene chiusa, vedete qui ci stanno queste cose e chiudono, vedete c'è un binario che lui è e chiude. Però guardate qui le lettere che mandano, i bambini che scrivono, la gente da tutto il mondo è molto venerato. E questo anche l'hanno fatto sempre come quello di prima, quello originale, l'hanno fatto con l'olivo dei gelsemani, dell'orto dei gelsemani dove Cristo fu palestrato dai parisei. Oh, nemmaranti.